Questo mondo sarà registrato e poi anche estirpato. Non oggi, Brainiac. Scordatelo. Il tasso di successo è pari a 89,76%. Qualcuno deve eliminare la navicella. Ma deve entrarci senza essere notato. Lo faccio io! Lo faccio io! Eccomi qui! Scegliete me! Scegliete me, vi prego! Eccomi qui, attenti! Ehi, occhio! Senti, Plasticman, ci serve qualcuno che prenda la faccenda più seriamente. Posso diventare molto, se... Guardate! Occhio! Accidenti! Colpa mia, uomo di latta! Ok, la situazione mi è sfuggita di mano. Davvero? Non abbiamo tempo per questo. Brainiac vuole rimpicciolire Metropolis e distruggere il mondo. Andiamo! Grazie, Plasticman. Grazie, Plasticman. La prossima volta? Sì, certo. Allora aspetto che mi chiamate... ...per parlarne. Un attimo, fermi tutti! Colpo di genio! Potrai salire da solo su quella navicella, ritardare il lancio e confondere le idee di Brainiac. Ti dimostrerò che per me fare il supereroe è una cosa seria. Su, potlo là! Minaccia individuata. Difese attivata. Ok, nuovo piano. A passare per i scopi o... Minaccia interrotta. Brainiac Prime. Questa unità è pronta a raccogliere la città designata come Metropolis. Minaccia individuata. Potenziale minaccia 0,0%. Armi disinnescate. E indovina chi ha lana tra giochiamo? Grazie per l'aiuto, gente. Devo andare a fare quello che faccio facendo del mio meglio. Sarà un viaggio breve verso una città tranquilla. Abitanti? Io! Accidenti alla mia lingua lunga. Accidenti alla mia lingua. Grazie a tutti.